Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi guardiamo quello che è successo ieri sui mercati finanziari, in particolare i mercati americani e andiamo a vedere che cosa è successo perché ieri Wall Street, ragazza, ha iniziato a scricchiolare, ci ha sparato un meno 3 l'S&P 500, è finita la benzina, quella relativa alle emissioni di liquidità fatte dalla Federal Reserve, oppure è semplicemente un momento di pausa sul mercato dopo un trend abbondantemente rialzista perché, ragazzi, i mercati finanziari hanno corso tantissimo. C'è da dire che, fatemi fare questa considerazione, ragazzi, c'è uno scontro fra due forze contrapposte, da una parte abbiamo le emissioni di liquidità pesantissime della Federal Reserve, ma anche delle altre banche centrali del mondo, anche l'Europa dovrà decidere ancora, come sempre, molto lenta, a maggio. Ma queste emissioni di liquidità stanno andando a comprare gli asset, ragazzi, quindi siamo intanto in una situazione di forte crisi generale e anche i mercati finanziari agiscono con l'unica manovra che sanno aver funzionato negli ultimi anni, cioè andando a immettere liquidità. Ma i dati sulla produzione sono disastrosi, il virus dilaga negli Stati Uniti, non si è fermato, ancora, ragazzi, non si sa bene quantificare i danni di questa pandemia. Non tanto nei nostri stati, che alla fine l'Italia, avete visto, ragazzi, pian piano diviene uno stato europeo che non è lo stato peggiore, infatti già siamo stati superati da altri stati europei e probabilmente continuerà a essere così nell'arco delle prossime settimane. Ma il problema serio sui mercati finanziari è nell'America, ragazzi, perché gli Stati Uniti, che hanno sottovalutato questa pandemia in maniera enorme all'inizio, si trovano adesso a dover fare i conti con delle situazioni per la prima volta nella storia della loro superpotenza molto importante. Ma i mercati finanziari si spiegano anche con i grafici e quello che voglio fare oggi è andare a vedere un grafico. Poi nella settimana faremo anche un video dedicato all'analisi di lungo periodo dell'economia, ragazzi, volevo farvi vedere degli indicatori e delle analisi che dobbiamo tenere sotto controllo per capire cosa sta succedendo nel mondo e cosa potremmo fare per proteggere i nostri investimenti. Perciò, ragazzi, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, per non perdervi questi nuovi video, saranno delle settimane calienti, anche da un punto di vista delle crypto perché abbiamo l'Halving e ho in serbo una serie di video molto ghiotti, ragazzi, quindi iscrivetevi e poi, come sempre, lasciatemi un mi piace perché mi date una mano con il canale YouTube, con gli algoritmi e per me è anche un modo di vedere se apprezzate questo tipo di contenuti, ragazzi, quindi se li apprezzate, lasciatemi un bel like. Ci spostiamo sui grafici perché vi faccio vedere l'attuale situazione e attenzione, ragazzi, perché sto per farvi uno scherzetto, vediamo chi se ne accorge. Allora, eccoci sul grafico del Dow Jones, ragazzi, siamo in questo momento di... diciamo, su questa fase ascendente, dopo il crash che avete visto, a marzo, ragazzi, e siamo perfettamente, diciamo, in questa fase di ripresa. Adesso vediamo chi di voi si è accorto dello scherzetto? Chi di voi se ne è accorto in questo momento? Vabbè, lo svelo subito, non sono bravo a mentire, non riesco, ragazzi. Allora, questo è il Dow Jones, verissimo, ma è il Dow Jones del 1929, ragazzi, esattamente. Questo è quello che è successo nel 1929, come vedete il crash è stato molto simile a quello attuale, ma anche questa gamba di ripresa. Per chi, come me, è un trader addicted, quindi un addetto ai lavori, ragazzi, queste figure che i grafici disegnano si chiamano wage, oppure dei cunei, e sono delle figure che in analisi tecnica sono un preludio alla continuazione del trend. Quindi quello che vediamo oggi è una similitudine fra quello che è successo nel 1929, non è a caso che vi prendo questa crisi, quella del 29, e la paragoneremo a oggi, ragazzi. L'avevo già fatto tempo fa, poi sono stato anche sottolineato dal più grande investitore del mondo, che io reputo il più grande investitore del mondo, che è Ray Dalio, ragazzi. Non poteva che farmi piacere la similitudine che ha fatto anche lui con l'attuale situazione, con il 29. Io l'avevo fatta a livello grafico e di discesa, lui l'ha fatta in maniera molto più importante, insomma, analizzando dati giganteschi di natura economica, ma non può che farmi piacere, perché spesso in queste situazioni, ragazzi, siamo tutti quanti in forte difficoltà a capire effettivamente dove stiamo andando. Perciò spostiamoci a capire questa figura di continuazione. Intanto ve la spiego in maniera molto molto semplice, ragazzi. Allora, un wage è un cuneo ed è una specie di triangolo, vedete, che si forma in questo modo, da una parte e dall'altra. Allora, questa struttura non è proprio un vero triangolo, perché non ha la sua forma triangolare, bensì è una correzione di un trend, che era questo, vedete, questo è il trend ribassista. A un certo punto il mercato configura una specie di bandiera, ragazzi, vedete, era così, configura questo wage, e dopodiché se il wage viene rotto, quindi è una figura di continuazione del trend al ribasso, perché? Perché se viene rotto dalla parte inferiore, il mercato configura una ripresa del trend. Allora, andiamo a vedere che cosa è successo nel 29, questa è la parte inferiore del triangolo, ragazzi, adesso facciamo in modo di andare avanti con il nostro replay, quello che vedete in questo momento, ed è quello che è accaduto al Dow Jones, insomma, Dow Jones era un indice storico, quindi nel 29 era l'indice più importante, ragazzi. Vedete il break avvenuto del wage, che è avvenuto esattamente in questa giornata, ad aprile del 1930. Vi faccio anche la linea superiore per capire come è stato breccato questa figura, come una figura di questo tipo indica che un trend sta andando in una sua fase, che è la fase di continuazione. Volete poi sapere quello che succede e che è successo al Dow Jones dopo questo break del wage? Adesso lo guardiamo insieme e vi farò vedere, anzi, portiamolo a velocità della luce, così il mercato, mentre io parlo, ci darà risposta, ragazzi. Vedete, intanto il tempo, poi chiaramente il tempo è tutto collegato al periodo storico, quindi quello era un periodo fortemente, diciamo, molto antico, quindi molto più lento del nostro, però, ragazzi, guardate il crash che il Dow Jones ha avuto dopo il break della wage e solo, appunto, alla fine degli anni 30, scusate, alla fine dopo gli anni 30, quindi dopo il 31 e il 32, ha toccato il suo minimo. Andiamo a vedere dove si ferma, in questo momento, vediamo, più veloce di questo non posso andare, ragazzi, per farvi capire, intanto, guardate un po', l'entità enorme del ribasso che c'è stato dopo il wage di correzione. Guardate, questa figura come ha, come ha in pratica bloccato il, ha riattivato, ha bloccato il trend rialzista e ha riattivato, invece, il trend ribassista. Poi, qui, da qui in poi, il mercato tendereà a fare una ripresa. Ma spostiamoci, in questo momento, ad un'altra struttura, cioè a quella, diciamo, quella di questi giorni. Eccoci davanti allo stesso grafico di prima, ragazzi. Lo so che molti di voi lo stanno dicendo, comunque, questo è il Dow Jones di adesso, quindi esattamente quasi 100 anni dopo, 90 anni dopo, Dow Jones nelle stesse identiche condizioni. Guardate qui la struttura, ragazzi. Questa è la struttura del wage che il Dow Jones sta disegnando. Ora, in teoria, ragazzi, nella giornata di ieri ha dato un break ribassista. Poi, è chiaro, ragazzi, queste figure hanno necessità di essere confermate. Per esempio, questo break è ancora molto leggero, perché noi potremmo avere un wage disegnato un po' così. Quindi, io aspetterei, magari, qualche altro giorno per dire la catastrofe imminente. Insomma, non è il significato di questo video. È per farvi capire e farvi prendere coscienza anche di quello che sta accadendo sui mercati americani e del perché questo tipo di movimento correttivo non è così tanto sicuro. Poi, è chiaro, ragazzi, tutta la struttura della macroeconomia, tutta la struttura moderna, non è paragonabile a quella del 29, che era un disastro, ragazzi, perché non c'era l'esperienza da parte delle istituzioni di gestire una crisi di quel tipo. Quindi, attenzione, facciamo le dovute differenze, il passato non si replica alla perfezione nel futuro. Però, l'analisi tecnica ci dice che la figura del wage si sta verificando sul Dow Jones e ci mette un po' le pulci nell'orecchio, quindi ci dice fate attenzione ad essere estremamente ottimisti su questo rialzo perché è estremamente pericoloso. Ciò non toglie che magari un trader può comunque mantenere le sue posizioni in essere, se magari ha già aperto le posizioni in essere sul mercato, magari facendo attenzione a non esporsi in maniera eccessiva in questo momento perché è un momento delicato, perché vi ricordo sempre che è vero che l'analisi fondamentale non si collega, diciamo, col timing, a volte viene totalmente ignorata dal mercato, però anche è vero che l'analisi fondamentale, ragazzi, nel lungo periodo poi è quello che conta, cioè in questo caso è la produzione quello che conta. La produzione in questo momento nei mercati occidentali, quelli che sono stati colpiti in maniera pesantissima nella pandemia, è bloccata, ragazzi, è totalmente bloccata, quindi non sappiamo dove andiamo a finire. Perciò il rialzo che è stato palesemente costruito dalle emissioni di liquidità della banca centrale ha fatto il suo e l'ha fatto, ragazzi. Poi da qui le banche centrali continueranno a mantenere stabili i mercati. Io penso che un break di questo livello di ribasso nella parte bassa, quindi questo minimo, ragazzi, del Dow Jones, sia difficile da vedere da qui a due mesi, un mese. Insomma, dovrebbe, se avvenisse una cosa del genere, sarebbe una catastrofe veramente, ragazzi, perché lì a quel punto, insomma, andremo giù veramente molto. Però questo wage lascia un po' il dubbio e la sua naturale struttura di configurazione come continuazione del trend prevede questo tipo di andamento, ragazzi. Un andamento che magari ci porterebbe ad avere un nuovo minimo per quanto riguarda il Dow Jones e di conseguenza probabilmente anche le S&P 500, non ne parliamo, dei mercati europei. Questo è quello che ci dice questa figura. Volevo rendervi partecipi e farvi riflettere nella giornata di oggi su questa struttura di analisi tecnica e su questa similarità 1929-2020, Dow Jones, index americano famosissimo, la stessa struttura tecnica che si ripete. Questa volta abbiamo due mondi diversi, un mondo molto tecnologico, molto innovativo, ma soprattutto un'esperienza da parte della Banca Centrale e delle istituzioni economiche molto più importante oggi e molto più capace di gestire le crisi rispetto a 29, ma abbiamo anche una struttura di debito gigantesca e che, ragazzi, dobbiamo capire un po' come gestire. Bene, per oggi è tutto. Io vi auguro buon sabato e buon weekend. Dal 4 si riapre un po' l'Italia, vedremo quello che succederà. Nulla, per oggi è tutto. Come sempre, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.